Noi dimungiamo Siamo qui oggi al forum a presentare la nostra linea. L'azienda è nata nel 1959, quindi ormai siamo alla terza generazione. L'azienda è nata in Sicilia, però poi ha affrontato il mercato pugliese, ora distribuisce in tutta Italia e da qualche anno sta distribuendo anche all'estero. Dalle semplici materie prime, quindi dalle commodities, l'azienda ha messo a punto vari INPK granulari, poi è passata alle basi idrosolubili, poi agli INPK idrosolubili e da qualche anno sta anche producendo i biostimolanti. Un'attenzione particolare merita uno di questi, il MoVita. Il MoVita è un interruttore di dormienza che abbiamo messo in pista sostanzialmente quest'anno e che posizioniamo su uva da tavola, ciliegio, albicocco e actinidia, kiwi. Sta dando buoni risultati, quindi è chiaro che ve lo consigliamo.